Per la serie Pomeriggi al Cinema va sugli schermi la stangata della Ruzzoreti, questo aumento? Ma questo è un aumento che abbiamo già annunciato nel mese di luglio, quando l'ente regionale per il servizio idrico integrato ha deliberato il 20 giugno l'approvazione delle nuove tariffe che decorrono, come più volte abbiamo già detto, dal 2018. Sono state applicate già nella scorsa bolletta e adesso continuano ad essere applicate. Il problema di questa fatturazione è che molti utenti hanno trovato, oltre all'aumento tariffario previsto, anche i conguagli di vecchi consumi. Per cui i conguagli sono stati calcolati con la nuova tariffa, che essendo più alta, di conseguenza ha comportato un importo un po' più alto delle bollette. Sarete d'accordo che sommare l'aumento con il conguaglio sotto Natale, prima delle feste, quando servono i soldi, non è stata un'idea quantomeno felice? Ma questa non è un'idea che può essere pianificata, questa attività. Quando l'azienda ha le letture, di conseguenza emette bollette di conguaglio. Del resto la tariffa dovevamo necessariamente applicarla perché c'era una delibera dell'ente regionale, per cui l'azienda ha sicuramente fatto quello che doveva fare. Non pensate di aver ridato fiato a coloro che in questi giorni hanno attaccato, uno tra questi il sindaco di Teramo, il management del Ruzzo, le nomine, le cariche e tutto quello che fa spettacolo? Sicuramente no, perché poi se vuole essere strumentalizzata però sicuramente... Il rischio c'è. Il rischio c'è però, come viene calcolata la tariffa, diciamo che vengono presi in considerazione dei parametri legati strettamente agli investimenti che l'azienda sostiene, per cui tutto il resto è pura strumentalizzazione. La sente di dire Buon Natale a tutti quelli che utilizzano l'acqua della Ruzzo Reti? Sicuramente sì, auguri di Buon Natale a tutti gli utenti.